Benvenuti nel Museo delle Scienze di New York, dove due Avengers presentano una mostra sui dinosauri, offerta alla città dalle generose Stark Industries, dice Iron Man. Wow, riporti indietro le gite scolastiche di milioni di anni, dice Captain Marvel. Sto soltanto cercando di rendere più interessanti delle vecchie ossa, replica Iron Man. Ma la discussione viene interrotta. Dimmi che è un trucco per la mostra, dice Captain Marvel. Purtroppo non è così. L'inaugurazione viene interrotta dal malvagio Ultron. Il nemico robotico minaccia di insegnare agli umani cosa vuol dire estinguersi. Iron Man non è turbato. I robot rappresentano il futuro, ma Ultron, che fallisce tentando di sconfiggere gli eroi, è storia vecchia. Oh oh, Iron Man ha parlato troppo presto. Il TR-3X di Ultron mette in difficoltà il nostro eroe. Captain Marvel è troppo impegnata. Perché Ultron non ha degli scagnozzi normali come gli altri cattivi? Ma Ultron ha un altro asso nella manica. Un raggio a impulsi elettromagnetici. L'armatura di Iron Man resta senza energia. I bambini sono al sicuro, dice Captain Marvel. Torniamo all'Avengers Tower per chiedere aiuto. Gli eroi sono costretti alla ritirata. Sì, scappate! In questa città non c'è modo di sfuggire ai miei raggi. Li prende in giro Ultron. Intanto, il re del Wakanda, Black Panther, si gode la visita della sorella, la principessa Shuri. Devi mangiare la pizza nel mio locale preferito, visto che non c'è Hulk, dice Black Panther. Shuri non è di buon umore. Non sono venuta fin qui dal Wakanda per mangiare la pizza. Sono venuta per unirmi agli Avengers e combattere al fianco di Black Panther, risponde. Shuri è molto pericoloso essere un Avenger. Lei cerca di controbattere, ma Black Panther ha ragione. È pericoloso. Ultron ha hackerato il Monitor. Dice agli umani che la loro specie non si merita la tecnologia, quindi la metterà fuori uso. Il raggio di Ultron coprirà la città e riporterà la vita all'epoca preistorica. Un'era in cui i suoi robot dinosauri sono l'unica tecnologia. Ultron non stava bleffando, dice Black Panther. Riporterà sul serio la Terra all'epoca preistorica. L'onda ha mandato in corto le mie perle Chimoio e tutto il resto, aggiunge Shuri. E Ultron non bleffava neanche sui dinosauri robotici. Black Panther sa che devono rifugiarsi nell'Avengers Tower. I due corrono al quartier generale, inseguiti da un esercito di raptor di Ultron. Shuri chiede a Thor di fare entrare un raptor. Le è venuta un'idea. Appena la porta si chiude, il dinosauro si spegne. La teoria di Shuri è corretta. I raptor sono collegati alla mente alveare di Ultron. E il legame può essere interrotto. I robot funzionano grazie al raggio di Ultron. Serviamoci di questa tecnologia per costruire delle armature McStrike per difenderci, dice Iron Man. Shuri gli offre il suo aiuto. Ma Iron Man replica. Grazie, questa è roba per me, Shuri. Ma i dinosauri cercano di sfondare la porta e Captain Marvel ricorda i due che devono collaborare per evitare di venire sbranati. Shuri stupisce Iron Man con le sue conoscenze scientifiche. E la Wakandiana è altrettanto colpita dal vecchietto. È ora di rispondere a Ultron coi loro McStrike MechaSource. Continua.